Resta quella di salvare 40.000 stalle dal fallimento, cercando soluzioni forti, soluzioni di mercato, ma che diano anche una visione produttiva del futuro. Così il ministro. Aiuti al burro siamo contrari, aiuti al latte in polvere siamo contrari. Latte nella scuola potrà essere una grande opportunità. Promozione, interventi di promozione, e poi ho suggerito anche l'aspetto di fare un progetto per la trasparenza e una formazione dei prezzi. Su un aspetto Zai è stato capito.